Conf e commercio al fianco degli imprenditori in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria, potenziali vittime di usure ed estorsione lancia la campagna Siamo al tuo fianco contro ogni criminalità e all'obiettivo di offrire assistenza agli imprenditori vittime di pressioni illecite per diffondere la conoscenza dei loro diritti e degli strumenti legali per resistere a condotte lesive della propria libertà personale e di impresa in qualunque contesto siano consumate. E' stata anche istituita la mail segnalazioneabusi-confcommercio.pa.it che garantirà la massima riservatezza e sarà possibile compilare il form dedicato rispondendo a un breve questionario in cui dovranno essere indicati alcuni dati. Il rischio è reale e siamo fortemente preoccupati, spiega la presidente di Conf e commercio Palermo, Patrizia Di Dio, anche perché purtroppo gli aiuti previsti allo Stato non sono sufficienti se non inesistenti e comunque risultano tardivi rispetto a quanto l'emergenza imporrebbe. La crisi economica ha già rilevato una vasta zona d'ombra dove rischia di insediarsi e rafforzarsi la criminalità attraverso l'usura e le estorsioni o le acquisizioni illecite in danno di aziende in difficoltà. Riponiamo piena fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine che ci stanno dimostrando concreta vicinanza con il quotidiano impegno nella repressione dei fenomeni criminali e con cui Conf e commercio intende collaborare per individuare tutti gli strumenti utili per fronteggiare o denunciare qualunque pressione criminale.